berat e gym city re tour match contro l'olimpiacos sei pronto ad andare all'attacco se necessario se sono pronta a fare tre questa volta si è stata sicuramente personalmente molto bella ma soprattutto anche di squadra una vittoria fondamentale per venire qua a giocarci la qualificazione diciamo che partita vi aspettate loro contano molto anche sull'appoggio del loro pubblico che ritorna seppur al 50 per cento allo stadio mi aspetto una partita combattuta contro una squadra forte sicuramente ma noi ci daremo tutto quello che sappiamo fare e cercheremo di passare il turno e il loro pubblico sicuramente sarà molto bello su questo stadio bello però anche a noi ci stimola per giocare avete due risultati a vostro favore domani potete pareggiare o vincere e quindi si parte anche psicologicamente con una sicurezza tra virgolette diversa sì questo è vero abbiamo due risultati in mano ma comunque noi ci cerchiamo di fare sempre la nostra partita come sanno tutti cercheremo sempre di giocare offensivo e fare la nostra gara e poi alla fine se hai due possibilità sicuramente ci aiuta ma non pensiamo a quello per voi continua l'emergenza in attacco il mister vi ha detto qualcosa di diverso avete fatto qualcosa di diverso in questa settimana post olimpia cosa gara di andata e pre gara di ritorno adesso da un paio di giorni diciamo anche di da due partite che abbiamo questa difficoltà dei attaccanti ma abbiamo comunque altri giocatori offensivi che giocano in questi roli cerchiamo di mettere i metterli di squadra in posizione di fare gol cerchiamo di riuscire tutti insieme da questa un po difficoltà diciamo a a a a a